Quindi, 12 frasi per zittire un narcisista! Partiamo, vediamo quindi queste 12 frasi per zittire un narcisista. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale. Seguimi su TikTok, su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo che, diciamo, di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. E veniamo al tema. 12 frasi per zittire un narcisista. Allora, intanto il narcisista è una persona che poi prenderà il sopravvento su di te. All'inizio non ti rendi conto di nulla, perché, anzi, dovresti rendertene conto, perché comunque fa lovebombing, cerca di creare un legame forte, mente moltissimo, e il suo modo di fare è basato sulla menzogna. Diciamo, usa gli altri per giudicarti, tende poi a criticarti costantemente. Insomma, altra caratteristica è che la tua felicità lo fa arrabbiare, la fa arrabbiare, e invece la tua delusione lo rende felice. Quindi funziona un po' in questo modo. Ovviamente, tendenzialmente oggettivizza le persone, cioè non ti vede come un essere umano, ma prevalentemente come un oggetto, che deve soddisfare i suoi bisogni, fondamentalmente. Quindi cerca di, in qualche modo, prevaricare, prevalere su di te. Ora, nel momento in cui tu ti rendi conto di questo, devi comunque, per stare bene, levartelo dai maroni, perché avere una relazione con una persona che si comporti in questo modo nei tuoi confronti non è sicuramente una cosa buona e giusta, non è sicuramente qualcosa di positivo, ma dovresti liberarti. Insomma, perché per stare bene, poi, è molto semplice. Dobbiamo semplicemente frequentare persone che ci danno qualcosa e non persone che ci tolgono, che ci prendono qualcosa. O perlomeno, giustamente, persone con le quali si mette in atto uno scambio, un doubt-death, un dare-avere. E queste sono condizioni importanti, condizioni fondamentali. Se vogliamo stare bene, se vogliamo che le persone possano essere allineate con le nostre esigenze, dobbiamo creare uno scambio positivo. Allora, quando incontro una persona che ha queste caratteristiche, che invece cerca di toglierti, di condizionarti, di manipolarti, di farti vivere senza di colpa, prima ti dà e poi ti toglie, ti fa love bomb, insomma, sia quel che sia. Perché ricordo, non è che noi dobbiamo fare le diagnosi di nulla. È soltanto che se una persona si comporta male nei tuoi confronti, sia quel che sia, dobbiamo levarci dai maroni. E comunque dobbiamo cercare di zittirlo, cercare di non farci mettere i piedi in testa, fondamentalmente. Quindi, quando una persona si lamenta, cerca di contrattaccare, cerca di... una delle frasi che tu puoi usare è guarda, non sono responsabile del modo in cui tu vedi le cose. Tu hai la tua visione nel mondo, io la rispetto, tu rispetta la mia. Però è interessante dire questo. Non sono responsabile io del modo in cui tu vedi le cose. Quello è un problema tuo. Questo è un qualcosa che lo mette a tacere. Perché di solito una cosa del genere non sa cosa risponderti. Resta bloccato. Un po' come, come dire, la criptonite per Superman, insomma. Ovviamente poi il narcisista ti renderà... Cercherà di renderti responsabile di tutto, dalla gelosia dei problemi quotidiani e del loro umore. Quindi, dire non sono responsabile di quello che capita a te è fondamentale. Perché è come dire, mi distacco da quello che... da quello che ti capita. Perché guarda che la responsabilità è tua, insomma. Un'altra frase che tu puoi dire, quando ad esempio lui mette in atto dei lamentele, si lamenta, rompe i maroni in qualche modo, e guarda, vedo che sei arrabbiato, ma non sono responsabile di come ti senti, non sono responsabile della tua rabbia. Quindi, evita di entrare nella dinamica. Ti vedo, mi rendo conto che sei arrabbiato, so anche che vuoi colpare me, ma comunque io non sono responsabile di quello che capita a te. Perché il narcisista tende sempre a renderti responsabile di quello che capita a lui. e quindi devi tenere presente che cercherà in qualche modo di, come dire, infilarti dentro, cercherà di far prevalere la sua ragione. Quando cerchi di far prevalere la sua ragione sulla tua, e a te non ti va, dili, guarda, accetto il fatto che la pensiamo in modo completamente diverso. Cioè, tu gli dai l'autorizzazione, è come se questo è interessante, lo zittisce, perché io accetto il fatto che tu la pensi in modo diverso da me. Implicitamente, dicendo, guarda che io ho ragione, quindi arrangiati, sono problemi tuoi. Questa è un'altra cosa molto interessante che ti suggerisco, un'altra frase molto interessante che ti suggerisco di utilizzare, perché lo mette un po' in una condizione appunto, lo zittisce fondamentalmente. Un'altra frase che dicono spesso i narcisisti è perché hai detto questo, perché hai fatto quello, hai fatto lo stesso, ti comporti come mia madre, ti comporti come mia nonna, usano tutta una serie di frasi di questo genere per confonderti, e anche qua quando escono fuori, tu fanno riportare sul focus. Guarda, stiamo parlando di questo, cerchiamo di rimanere sull'argomento, oppure richiami l'argomento senza divagare. Questo è molto importante, perché altrimenti il narcisista tirerà fuori poi un sacco di scuse, che saranno anche spesso scuse non sincere, perché tenderà a farti vivere a senso di colpa, sono stato stressato per colpa tua, ho diritto di vivere la mia vita, sei sempre lì a rimproverarmi, vuoi solo distruggere la nostra coppia. Ecco, queste cose, queste cose devi difenderti da questo tipo di attività, da questo tipo di strategie, e quindi devi dire delle frasi, guarda, io non interagisco, non parlo con una persona che non mi rispetta, oppure un'altra frase che puoi dire, io non parlo con persone che deformano la realtà, esci fuori dalla conversazione. Guarda, capisco che ti stai mettendo sulla difensiva, ma io voglio solo risolvere quel problema, voglio solo risolvere quella questione. Questa è un'altra frase che tu puoi usare, ed è molto utile per prendere il distacco dal narcisista. Questo è un modo di fatto per mandarlo in cortocircuito, ed è molto importante imparare a mandare il narcisista in cortocircuito, perché se non lo mandi in cortocircuito, tieni presente che sarà lui che manderà in cortocircuito a te, purtroppo, e questo è un dato di fatto, no? Quindi quando il narcisista poi magari cerca di farti vivere degli allontanamenti, guarda che io me ne vado, guarda che faccio qua, e tu devi dire, guarda, sono tue scelte, se tu te ne vai è una scelta tua, io non voglio trattenere nessuno contro voglia. Ecco, quindi gli farai capire che tanto tu non inseguirai. Vai pure, io non trattengo nessuno che resta contro voglia, io non voglio trattenere nessuno. Ecco, sono tutte frasi che tu puoi utilizzare e che zittiranno un narcisista, lo inibiranno anche, perché a quel punto lì, se lui ti minaccia di andarsene, tu dici, ma vai pure, non c'è nessun problema per me, io non trattengo assolutamente nessuno, vedrai che lo destabilizzerai. Ecco, queste frasi ti suggerisco di usarle perché sono molto utili per destabilizzare un narcisista. Bene, per questo video è tutto, quindi seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok, e ti ricordo di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, seguimi su tutti i miei social. Ciao a tutti e al prossimo video!